Nel pieno rispetto e nella dovuta osservanza delle norme emanate dal governo italiano a partire dalla vigilia della Domenica delle Palme, 9 aprile prossimo venturo, si possono svolgere le processioni esterne alle chiese con la partecipazione del popolo di Dio. E con queste parole che il Vescovo della Diocesi Nissena, Monsignor Mario Russotto, annuncia e dispone attraverso apposito decreto la possibilità di effettuare le processioni della Settimana Santa di quest'anno, precisando che si agirà sempre nel rispetto delle normative nazionali. L'andamento della situazione infatti verrà comunque monitorato anche attraverso opportuni tavoli prefettizi. La ripresa delle manifestazioni religiose esterne, prosegue ancora il Vescovo Monsignor Russotto, sia caratterizzata da un'autentica espressione della fede, la cui linfa rimane la liturgia, culmen et fons della vita della chiesa e di ogni esperienza spirituale. Una decisione dunque che arriva in seguito alla sessione primaverile della conferenza episcopale siciliana, svoltasi dal 7 al 9 marzo. I Vescovi siciliani hanno discusso di molti argomenti, tra cui la Pasqua, stabilendo la possibilità di riprendere le processioni già a partire dalla Domenica delle Palme, qualora il governo italiano il 31 marzo prossimo 21 revochi lo stato di emergenza, frase riportata anche nel decreto del Vescovo della Diocesi Nissena. Un pensiero è stato rivolto al popolo ucraino, invitando a non usare i fuochi d'artifice e utilizzare quei fondi per gli aiuti umanitari.